I finanzieri dei comandi provinciali di Salerno e di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di otto soggetti, di cui sei in carcere e due ai domiciliari, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri correlati. Le attività di indagine svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno consentito di ipotizzare l'esistenza di un gruppo delinquenziale dedito alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, capeggiato da Domenico Tamarisco, alias Nardiello, con precedenti specifici e sottoposto alla sorveglianza speciale della Polizia di Stato nel Comune di Scalea, secondo la prospettazione accusatoria formulata allo Stato delle indagini e condivisa dal GIP, l'indagato si sarebbe posto quale elemento di collegamento tra soggetti riferibili ai clan di Torre Annunziata, con lo scopo di reperire ingenti partite di cocaina a prezzi di favore da trasferire in Campania. In particolare Tamarisco, nonostante la misura di prevenzione personale, si sarebbe servito di sodali calabresi conosciuti durante la sua permanenza a Scalea, in modo particolare di Rovito Gianluca e Sant'Aga da Pietro, per essere scortato a Summit organizzati in Campania con esponenti della criminalità dell'acronocerino, con i quali avrebbe intrattenuto illeciti affari. Sempre secondo l'ipotesi accusatoria, Tamarisco Domenico avrebbe ricoperto una posizione di vertice e coordinamento delle attività dei sodali, occupandosi dell'approvvigionamento della droga, mentre i calabresi Rovito e Sant'Agata e il nocerino Maiorino si sarebbero occupati del trasferimento dello stupefacente dalla Calabria al territorio campano. Lo stupefacente, dal valore di mercato di oltre 4 milioni di euro, sarebbe stato destinato, secondo quanto ritenuto dagli inquirenti, ad esponenti della criminalità organizzata. Tra le contestazioni mostre a Tamarisco vi è quella relativa all'acquisto di un carico di 200 kg di cocaina provenienti dal territorio calabrese.